buongiorno, oggi la colazione è dalla regina la colazione è dalla regina, un bel prep con uomo, bicarbonato, farina, semplice, buone, sane non dimenticate di tifir che è una cosa molto più importante è importante perché tifir ti dà competenza, non lato, tifir guardate la nostra ricetta, questa ricetta scriviamo sotto un po' di puro, si sta sempre in un prezzo un po' di puro solo per sformare la bella buona giornata è buona giornata a tutti paga paga non usiamo tutto l'occhio è vero, è riuscita la scriviamo comunque rimangono dentro morbidissime ma si fa giù non ci sia possibile ma mi ricordo che abbiamo messo diciamo che uno paga poi non abbiamo mai avuto i paga poi non l'abbiamo apsi paga checked il vino e poi vedete che si è consapevole e poi vedete che si è consapevole e poi vedete quali sono alcuni mamma! il pezzo deve essere buon appetito e piatto pulito! ciao!